Ciao e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come sviluppare il modello tridimensionale di una parete esterna con struttura telaio o platform frame. Io ho già sviluppato il modello bidimensionale con la relativa tabella che riporta gli strati, i materiali, appunto con gli spessori. Questo qui è il pacchetto di riferimento che ho preso sempre sul sito dataalls.eu con naturalmente anche qui vengono riportati i materiali e gli spessori. Durante la realizzazione del bidimensionale naturalmente ho applicato una gestione avanzata dei layer. Qui vedete tutti i layer che ho utilizzato e vedete anche i filtri che ho utilizzato per facilitare il lavoro. Vi consiglio di vedere i tutorial dedicati alla gestione dei layer. Poi ho realizzato due copie in realtà del pacchetto bidimensionale. Una prima copia riporta tutti gli elementi, tutti gli strati, però composti non più da linee come il pacchetto precedente, come la sezione precedente, ma bensì da polilinee. Ogni elemento qui è appunto un rettangolo chiuso. Ho poi proseguito il lavoro realizzando un'ulteriore copia dove ho spostato quegli elementi lì formati da polilinee, li ho spostati nel relativo filtro che ho realizzato, nel filtro dedicato che ho realizzato al pacchetto parete 3D con i colori simili o quantomeno concettualmente simili ai colori reali dei materiali. Proseguo con la realizzazione del tridimensionale. Prima cosa faccio una copia dell'ultimo pacchetto che vi ho descritto, dell'ultima sezione. Imposto la vista in tre destra in modo da avere una visione completa del pacchetto, dello sviluppo del pacchetto che sto andando a realizzare. Nella parte in alto a sinistra lascio la visione dall'alto, la vista dall'alto, mentre quella in basso la vista frontale, quella a destra metto la vista a sonometrica diciamo. Cambio l'area di lavoro con elementi 3D di base, tolgo quindi disegno e notazione. Poi vorrei facilitare la gestione dei layer fondamentali per lo sviluppo del tridimensionale. Quindi apro la finestra gestione proprietà layer e la lascio fissa sulla parte sinistra della schermata. Sistema un attimo, perfetto, in modo da avere a portata di mano tutti i layer che utilizzerò per l'estrusione del tridimensionale. Quindi parto dal bidimensionale, comando estrudi, parto dal primo strato più esterno, quindi il cartongesso, che in realtà poi è quello più interno, e lo estrudo di un'altezza pari a 1000 mm. Vi ricordo che qui io sto lavorando in mm. Dopodiché proseguo con il secondo strato che in realtà è formato da due materiali. Vi ricordo che potete, infatti sono due polilinee, potete controllarle tramite la selezione ciclica che avete appena visto. Io parto con i listelli di abete, la parte interna. Questo qui è uno strato formato da listelli di abete e da materiale isolante. Qui vado a controllare la sezione di listelli di abete, vado a confermare esatto, si tratta di listelli di 50x80, 50 è lo spessore che già abbiamo, dobbiamo quindi estrudere il listello di 80 mm. Vado ad inserire appunto 80. Dopodiché, per far capire che questo qui non è altro che uno strato composto da listelli e materiale isolante tra un listello e l'altro, vado a fare, vado a spostare intanto il listello di 100 mm più in alto, per non lasciarlo appoggiato nel piano, e vado a fare poi una copia con un interasse pari a 800 mm. Anzi, no, scusate, mi correggo, 600 mm. 800 infatti erano troppi. Adesso vado a riempire la parte tra un listello e un altro e anche le altre parti con del materiale isolante. Per farlo mi sposto sull'air che ho realizzato appositamente e vado ad estrudere l'altra polilinea che è rimasta con appunto il colore giallo che ho scelto per rappresentare il layer. Dopodiché la parte interna tra un listello e l'altro posso direttamente realizzare un parallelepipedo, quindi comando parallelepipedo, vado a prendere i due angoli e poi imposto l'altezza. Stessa cosa faccio con l'ultimo strato dove vado ad impostare un'altezza di 150 mm in modo da lasciare vedere lo strato che è dietro il cartongesso, in modo, perché, diciamo, l'effetto che vogliamo ottenere è questo effetto qui, un effetto, diciamo, a scala per far vedere tutti gli strati che compongono il pacchetto della parete esterna. Attenzione, qui ho lo strato composto dalla barriera a vapore, che ho scelto di rappresentare con questo colore violetto, questo viola, lo vado ad istrudere di 900 e poi proseguo con l'altro strato che è un pannello USB, lo vado ad istrudere di 850 mm, come vedete vado a scalare di 50 mm per volta. Proseguo poi con i montanti, quindi con la struttura, la parte strutturale del pacchetto che ho scelto di rappresentare in quanto pacchetto di una struttura a telaio puro, appunto, o platform frame. Vi ricordo la differenza sostanziale tra una struttura XRAM e una struttura a telaio, appunto, in XRAM troviamo pannelli formati da tavole incollate, in senso, diciamo, incrociato tra di loro, mentre struttura a telaio trovo sempre dei montanti e poi delle traverse che chiudono le pareti. In questo caso attraverso non le vedremo, le vedremo poi quando andremo a realizzare il dettaglio costruttivo di una struttura a telaio. Continuo poi con l'OSB. Altra differenza sostanziale, ecco, come io ci sono, la ricordo, tra la parete XRAM e una parete a telaio è che durante la posa in opera la parete a telaio giunge in cantiere già pronta, quindi il pacchetto è già stato fatto in officina, praticamente. Quindi tutto viene realizzato il pacchetto, vengono incollati, vengono poi attaccati, fissati i pannelli e poi inoltre arrivati in cantiere vengono semplicemente posati in opera, cosa che invece non avviene con l'XRAM. L'XRAM invece arriva soltanto, arrivano soltanto i pannelli già pronti per l'installazione ma poi tutti gli altri strati vanno aggiunti in cantiere. Proseguo poi con i listelli che sorreggono la parte del rivestimento formata da tavolato in legno di larice e possiamo considerare concluso il pacchetto tridimensionale, la vista tridimensionale. Ecco, vi consiglio, mi raccomando, impostate ombreggiato con spiegoli come modalità di visualizzazione per ottimizzare appunto la vista del pacchetto tridimensionale. Possiamo passare alla fase successiva, cioè la realizzazione dell'esploso tridimensionale. Quindi faccio una copia della vista tridimensionale che ho appena realizzato, mi allontano un po', e non mi rimane altro che allontanare gli strati l'uno dall'altro. Quindi comincio con lo strato più esterno, in questo caso il cartongesso lo vado ad allontanare, vado a spostare di 1000 sull'asse X, poi proseguo con il materiale isolante dopo il cartongesso, qui seleziono e vado poi ad impostare una distanza di 900, in questo caso lascio 100 mm tra uno strato e l'altro. Proseguo poi con gli stelli trasversali rispetto ai montanti strutturali, poi proseguo con il telo della barriera a vapore, proseguo poi con l'USB. Nuovamente vado a spostare l'altro isolante, quello più esterno, il pacchetto più spesso, di 500. In questo caso, visto lo spessore dell'isolante, non posso più spostare di 100 i montanti strutturali, ma bensì, quindi non posso fare 400, ma metto 150. Posso verificare comunque la distanza tra uno strato e l'altro sicuramente della vista superiore. Vedete, qui ho l'idea, la vista, diciamo, chiara della situazione. Sposto anche il pannello USB esterno, dopodiché non andrò più in quella direzione dell'asse X, ma cambierò direzione. Sposto quindi gli strati, gli ultimi due strati formati dai listelli trasversali e il tavolato legno di larice dalla parte più esterna e poi infine sposto solamente di legno di larice, in modo da ottenere questo effetto qui. Altra piccola modifica che posso apportare sicuramente è quella di allontanare, quindi di staccare ancora, alcune tavole del rivestimento di larice, in modo da far capire che si tratta di elementi singoli. Vado a spostare prima questa prima parte, che potrei volendo in realtà anche cancellare, visto che deriva dalla sezione bidimensionale, e qui non ha molto senso. Sposto poi tutte le tavole rispettando naturalmente la sua posizione prevista dalla pose in opera. Non le sposterò di certo tutte, ne sposterò un paio, altre invece le lascerò nella posizione attuale. Sposto quest'ultima, quest'altra, e infine direi che così può andare bene invece piuttosto al vicino queste che ho appena modificato, vicino di 200, perfetto. Questo piccolo confermo possiamo anche eliminarlo perché non fa altro che confondere diciamo le idee. Perfetto, ecco qui concluso anche l'esploso. Non ci rimane altro che andare ad impaginare il pacchetto sia bidimensionale che tridimensionale. In realtà io ho già provveduto all'impaginazione del pacchetto bidimensionale, del solo pacchetto bidimensionale. Attenzione, vi faccio vedere anche un'anteprima di stampa. Naturalmente è impostato in monocromo, quindi in bianco e nero, con gli spessori corretti, nelle retini, nelle quote, nella tabella, i riempimenti quindi interni e gli spessori che formano parte strutturale e altri pannelli. Vado a fare quindi una copia di questo layout, sposto copia, sposto alla fine e creo una copia. Vado a modificare il nome del layout, non sarà più A3 2D, ma metterò A3 3D. Vado anche a modificare il cartiglio, non sarà più un dettaglio per ed esterna 2D, ma sarà 3D. In realtà, attenzione, c'è anche il 2D, quindi faccio 2D più 3D. Vado a cancellare la finestra attuale e vado a selezionare il layer corretto, quindi quello cartiglio, quello dedicato al cartiglio e vado nel ribbon layout, vado a fare finestre di layout, vado a prendere l'impostazione 3D, seleziono e la vado ad inserire all'interno del mio layout, seguendo naturalmente il contorno della squadratura che avevo già realizzato. Sulla finestra in alto a sinistra vado ad inquadrare la sezione bidimensionale, la vado ad impaginare in scala 1 a 10. Sulla parte in basso a sinistra vado ad impaginare invece l'esploso. Scala 1 a 10, come vedete, non c'entra troppo grande, vado ad impaginarlo in scala 1 a 20. Proseguo poi con l'impaginazione della vista tridimensionale semplice, in scala 1 a 10. Anche qui mi raccomando di lasciare impostato ombreggiato con spigoli. Vado a modificare, anche qui il cartiglio non è più scala 1 a 5, ma sarà scale varie. Perfetto. E direi di proseguire con l'inserimento della denominazione di ogni elaborato inserito nella tavola e la relativa scala di impaginazione. Questo qui sarà appunto una sezione 2D, scala 1 a 10. Adesso vado a ridurre la dimensione del testo, vado ad adattare la finestra del testo e vado a ridurre a 5. Vi ricordo che io ho lavorato in millimetri e sto lavorando in millimetri anche sul layout, sullo spazio carta. Vado a copiare questo testo qui nella finestra in basso, nell'esploso. Vado naturalmente a modificare il testo con esploso 3D, scala 1 a 20, non più 1 a 10. Vado a fare un'ulteriore copia nell'altra finestra contenente la vista tridimensionale semplice. Andrò a mettere vista 3D, va bene. Andiamo, proviamo a dire che questa dimensione qui del testo è più corretta rispetto alle altre. Faccio in corrispondenza con proprietà, quindi vado a copiare le proprietà dell'ultimo testo nelle altre due caselle di testo e direi che ci siamo. Vado a fare un'anteprima di stampa e mi accorgo subito che ho dimenticato a modificare la scala della vista 3D che è 1 a 10 e inoltre che il bidimensionale viene impaginato a colori, quindi attenzione qui non dovete lasciare ombreggiato con bordi, con spigoli scusate, ma bensì wireframe 3D. Vediamo nuovamente l'anteprima. Io direi che adesso ci siamo. Abbiamo appunto il bidimensionale bianco e nero, i tridimensionali con la vista ombreggiata con spigoli, con relative scritte e scale. Se avete dubbi ragazzi e ragazzi commentate. A presto.